Fa rumore il tonfo del bitonto a Pozzuoli, dove i rovinosi si scontano le malinconiche brume delle conseguenze della sbornia, come Amaro noterebbe lo scrittore a proposito dei sei gol di Fasano. Mister Valeriano Loseto sbianca incrociando in infermeria gli sguardi di Carullo, Palazzo, Corrado, Cassano e Chiaradia e in tribuna quelli di Figliolia e Gomesci. E così in terra campana sarà ancora una volta di scena una banda di giovani marmotte, più che di invitti tigrotti. In porta, meno sicuro di altre volte, Petrarca. Nel reparto arretrato gli scafatti Clemente, Silletti e Gianfreda. Nel mezzo Cardore, in cabina di regia, Mariane Muscatello a sostegno, laterali Riefolo e Tangorre. In attacco ancora il duo Moscelli-Maffei. Salvatore Marra con la sua putiolana, pur se ai quarti in Coppa e all'ultima spiaggia in campionato. E sistema Lamberti fra i pali, protetto da Varchetta, Avella e Amelio, uno dei tanti ex di giornata. Mediana con Caliendo, Gatto e D'Ancora, Mignogna e Colaci sulle corsie. Settore offensivo con la coppia Abercon-Romeo. Poco prima del quarto d'ora, l'artista Maffei prova a disegnare una parabola ferale, che non impensierisce più di tanto Lamberti. Al diciannovesimo comincia a grandinare. Piazzato da sinistra, la difesa ospite ribatte. D'Ancora da fuori, stocca, una deviazione turlupina Petrarca ed è una zero per i Diavoli Rossi. Poco prima della mezza, Cuoio che viaggia sull'asse Muscatiello-Maffei. Moscelli e Riefolo non arpionano il cross di un non nulla. Minuto 34, tracciante di Gatto fuori misura. 60 secondi e rete annullate nero-verdi. Il 7 in becca Moscelli che controlla in sacca robusto. Fuori gioco e nulla cambia. Subito dopo, corner benefico di Amelio che scheggia la traversa. Punizione del fantasista al 38esimo e sfera alta. In pieno recupero, sinistro di Abercon sull'esterno della rete. Dopo l'intervallo, riprendono le dolorose precipitazioni. Al terzo, Gatto dalla bandierina, Varchetta stacca e infila Petrarca. 2-0. Ottavo e tristi padroni di casa. Ancora un calcio d'angole, d'ancora implacabile, batte il portiere Bitontino. Al quarto d'ora, poker campano. Ancora sfera che spiove e galleggia in aria pericolosamente. Risolve insaccando da distanza ravvicinata Rabbeni. Che, subito dopo, con una inzuccata tanto beffarda quanto letale, fa doppietta personale e cinquina per i suoi. Vano è il tentativo di Gianfredo di evitarli inevitabili. Minuto 21. Lamberti annulla con maestria l'orgoglio di Mariani. Prima che cali mestamente il sipario sul match maledetto, Claudio Maffei cerca due volte il punto della staffa. Lamberti gattesco prima e la mira frettolosa poi rendono fallace il tutto. Nell'arco di una stagione, nel naturale rivolgimento delle alterne vicende dei calcistici destini, perdere ci sta. Perdere la dignità un po' meno.